Laura Marzadori, primo violino dell'orchestra della Scala di Milano, protagonista della sedicesima stagione concertistica internazionale di Casa Bruschi. Giovane, insomma, violinista che onora l'Italia perché lei tra l'altro si è fatta conoscere anche in concorsi internazionali molto importanti, ha saputo negli anni, ecco ha studiato come docente di grandissima fama come Zachar Bron e appunto a soli 25 anni ha vinto il concorso alla Scala come primo violino, tra l'altro voluta da Daniel Barenboim che è uno dei più grandi musicisti al mondo. che l'ha apprezzata fin dall'inizio per le sue straordinarie doti, è un suono meraviglioso e un controllo incredibile dello strumento. La giovane e talentuosa musicista ha portato nelle suggestive sale della Casa Museo Ivan Bruschi di Arezzo un repertorio con brani di Bacca, Paganini e Isai. Siamo onorati oggi di averla qua ad Arezzo, tra l'altro è un personaggio insomma anche molto noto, è stata più volte anche in televisione invitata da Bollani in varie trasmissioni perché è un personaggio importante insomma del mondo musicale italiano, è anche un bellissimo modo di stare col pubblico, di comunicare, quindi penso che stasera sarà una bellissima serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.